Giornata conclusiva del premio nazionale Paolo Borsellino al Teatro Comunale di Teramo il 30 novembre prossimo. Ospite d'onore Piff che racconterà del suo famoso film La mafia uccide solo d'estate. Con lui saranno premiate due dirigenti scolastiche e due associazioni onlus come Il Sogno di Iaia e Prossimità alle istituzioni. Quest'ultima in particolare si occupa di togliere dalla strada i bambini pescaresi dei quartieri malfamati per offrire loro alternative culturali. Un premio anche alla giornalista Floriana Bulfon, autrice del libro sui Casamonica. Come si svolgerà questa serata conclusiva e chi sarà premiato? Questa sarà la seconda cerimonia del premio nazionale Paolo Borsellino qui a Teramo fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Sarà una cerimonia molto bella, emozionante sicuramente come quella di Pescara che si è svolta qualche giorno fa. Diversi premiati tra cui due dirigenti scolastiche del territorio Teramano, due onlus importanti che sono Il Sogno di Iaia e Prossimità alle istituzioni. Luciano Costantini, magistrato che accanto a Paolo Borsellino in quel di Marsala ha lottato contro la mafia e che continua comunque a farlo portando le idee che erano di questo giudice del pull antimafia nelle scuole d'Italia. Il premio nazionale Paolo Borsellino è stato istituito nel 1992 dalla volontà del giudice Antonino Caponetto, invitato a Teramo pochi mesi dopo l'uccisione di Borsellino in via d'Amelio dall'Associazione Società Civile per un incontro con gli studenti al Teatro Cittadino. Dopo oltre dieci anni di assenza, la giornata conclusiva torna a svolgersi proprio a Teramo. Voi avete creato proprio una delega alla legalità. Sì, assolutamente una delega alla legalità che esiste nella giunta d'Alberto e che è in stretta connessione con la delega alla cultura, quindi nel collaborare sia con la Presidenza del Consiglio come dicevo che con l'assessore Falini abbiamo intenzione di continuare questo percorso su questa tematica perché lo riteniamo di assoluta importanza, lo ha ribadito il sindaco, a volte purtroppo il silenzio su queste tematiche fa sì che crescano determinati percorsi negativi, invece il nostro obiettivo deve essere quello di riportare alla luce quelli che sono dei percorsi virtuosi, di educare i giovani alla legalità e farlo ricordando delle figure di primaria importanza come sono stati Falcone e Borsellino. Il premio nazionale Borsellino è ritenuto oggi il più importante evento italiano sui temi della legalità.